Ecco l'alzardataria. Parmi a dieci minuti perché qualcuno deve andare in bagno. Chissà chi. Tu. Io voglio un cornetto. Al posto del caffè ti prendi il cornetto al pizzeria, ristorante, bar, pit stop. Missione compiuta. Il perro di la terza. Doveva essere vuota, in realtà è pienissima. Senti, secondo me da questa stradina si va giù. Mi fido, non so perché. Oppure forse è vuota. Il perro di la terza. Ciao. Amore. Che c'è? Ci porti in giro? Di là? Devo andare di là? Ebbene. Andiamo dai. Andiamo dai. Cazzo. Cazzo. Ciao. Ciao. Ok, non so se... Quelle arancioni sono i miei preferiti. Vieni, dai, dai. Chissà cosa ci sarà oltre questo muro. Ah, quello è il punto panoramico, credo. E scendiamo da qua? Un po' malmesso. Sì, andiamo. Uè! Si può starmutire? Si può starmutire? Ah, vabbè, sì. Beh, un po' lo è. Fedeli. C'è tipo un fiume sotto, sì. No, ma dovremmo risalire. E poi c'è un altro punto panoramico che penso sia migliore di questo. No, un pallone. Andiamo. Comunque il tuo giubbotto si abbina. Sì, no? Sì. Basino. Io penso a fare il giubbotto. Dov'è che dobbiamo andare? Qua. Mamma a me. E penso di qua. Sì. È carina questa stanza. Qua. Guarda. Che bel posto. Acqua di un fiume che non vediamo. Beh, sì, certo. Sicuramente non c'è la città. Riccone, sì. Vedi un po'. Eh, vedi un po'. Guarda là. Una spessa di... Rapida. Vieni col mio telefono. Mamma, diramocelo assoluto che fa un freddo assurdo. Questa è Mary quando viaggia. Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi ci troviamo a... Mary Safari. No, ma che cazzo di oggi ci troviamo a Gravina. Oggi ci troviamo alla terza in Puglia. Cacetta. Non so se ci ho preso. Non so di sì. Belli questi piccoletti. Sono molto. Solo che... Non so a destra adesso. Stiamo venuti? Sì, sì. Guarda. Dava andiamo adesso? Dall'altra parte della città. Ok. Guidi tu. Vai guida, tieni. Punto panoramico. Poi c'era uno che si chiamava tipo altro punto panoramico, ma non lo trovo, quindi andiamo a questo. 5 stelle, ma una recensione. Non ci spoileriamo le foto, ma andiamo. qui ci sono quei... Figo. Figo. No, ma sti vanno. No, ma sti vanno. No, ma sti vanno. No, ma sti vanno. Sono, cioè... Spettacolari. Questo posto sembra inaspettatamente famoso. Questo posto. Ingresso. Ah, oh sì, lì. Oh, dai, è bello. Sì. Non è da di dove porti, ma... Ma guarda che bello. Questo cappuccio rosa nel mezzo del verde è un'ottima indicazione di ore 6, in caso servisse. No, guarda là. Sì, si arriva. Sì. Ma non sto bene capendo comunque come... Cosa sta succedendo. Come è fatta, diciamo, in questa zona. Ti denuncio. Non so se è non accessibile per motivi di sicurezza immediata. O cose tipo il covid. Solo che siamo giunti quasi. Beh, è più che accessibile. Wow. Wow. Oh, il pronte di cane. Il pronte di canetto. Sì, andiamo ad avventurarmi. Il pellicolo. Cosa? Li vedi? Bellissimo. Di qua, scende. Può essere arriva al fiume, spero. Secondo me non si scende da là. Ma da là. Ma è un sentiero. Ma è un sentiero? No, però... No. Come l'hanno detto. Ovvero, perché c'era ragione. Nessuno perché non sapeva ancora quale ci porti giù. Ma perché vuoi andare giù? Si addentra proprio. Occhio qua che si scivola un po'. Wow. Ci sei? No. Guarda che siete. Vedi? Fermati, rispondosi e borraccia. Ciao. Primo sentiero che poi era il numero tre. Finito. Adesso cerchiamo di scendere. Anche se la vedo difficile. La vedo. Vero 8 dicembre pugliese. Mangia leggero per scalare la montagna. Si esatto. Certo che noi proprio con l'altrezzatura giusta. Quello giusto. Sanca. Cioè, allora. Ma come stai riprendendo? Aspetta, mi chiedo, vai. Intervistiamo. Voi immaginatevi durante un lockdown. non camminiamo zero da 50 giorni. Adesso siamo venuti a scarrire la montagna con le vans bucate. Ragazzi. Però sei felice? Sì, perché hai da DD. Per via. Hai ancora freddo? Sto pezzando. Sto dietro. Ecco. Però che bella sensazione. Lontani da casa. posti nuovi. Fare cose diverse. L'aria della natura. Le macchine. Le macchine. Le macchine. E' ancora freddo? E' un'altra parte. No? 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 No. No? No. No? No. No? No. No. Grazie a tutti.